3, 2, 1, partiamo con la live. Ciao a tutti, sono Donorotos, benvenuti per questi video in live su gli MMO. Adesso siamo su Guild Wars 2, un gioco che mi ha preso un sacco. Ho giocato tanti anni, tra l'altro tanti anni, da piccolo, per estreme virgolette, a Guild Wars 1, che a pensareci adesso mi vengono poi brividi, e Guild Wars 2 me lo son comprato al day one, nell'edizione, diciamo, il preacquisto, e non ne sono rimasto particolarmente soddisfatto, perché ero solo sostanzialmente, gli MMO sono giochi belli da fare in tante persone, e non avevo tanti amici con cui giocare, mi sono rotto le balle dopo poco, l'ho ripreso di recente, grazie alla passione che ha per il gioco anche Mac, e mi ci sono appassionato abbastanza, l'ho seguito, avevo il gioco base, ho comprato l'espansione, che mi ha aperto un mondo totalmente nuovo, e quindi siamo qui per dare un'occhiata a Guild Wars 2, che è un MMO non nel senso tradizionale del termine. Questo qui è il mio bel personaggetto, un micione, no, è un Char, una delle ragazze giocabili, di livello 80, è un Berserker, in realtà è un guerriero, Berserker è una classe che si sblocca se si ha comprato l'espansione, ci arriviamo. Entriamo subito in gioco, dovrei essere all'Arco del Leone, infatti. L'Arco del Leone è la città più importante e più grande della mappa, diciamo, anche ai tempi di Guild Wars 1. Ho detto Blowjob Simulator, no no, però magari lo faranno, non si sa mai. È un gioco che ha spaccato un po' l'audience, Guild Wars 2, nel senso che si distacca dal classico gioco. Si distacca perché? Perché non c'è la famosa trinità degli MMO, ovvero il tank, l'healer e il DPS. Qua chiunque più o meno può essere qualunque cosa, abbiamo diverse classi che non mi ricordo anche quale sono, abbiamo il guerriero, abbiamo l'elementalista che è l'equivalente di un mago, abbiamo il mesmer o l'ipnotista in italiano, che è un personaggio un po' strano, uno che casta magie e lancia buff e debuff, il Negromante, che usa le magie, diciamo, del sangue, della morte ed evoca schifizze che lo seguono. Il Guardian, che uno potrebbe pensare sia una classe tank, in realtà è una classe da corpo a corpo, con alcune abilità che danno buff alla squadra. Sto facendo una panoramica, io ho sempre giocato guerriero, quindi posso dire queste cose con certezza sulle abilità e sulle cose solo sul guerriero. Quindi non voglio stare a descrivere come funzionano le altre classi se non ne sono totalmente sicuro. Il Ranger, classico personaggio che combatte a distanza, può usare trappole e può usare archi e pistole, forse anche, credo di sì. E cos'altro c'è? Gli ho detti tutti. Ci sarà sicuramente una classe che mi sono dimenticato e che sarà isolata. L'assassino, forse, c'è l'assassino? Credo ci sia anche l'assassino, il DPS stealth che non può prendere tanti danni in genere. Qua è un po' diverso perché puoi fare tutto. Non c'è una classe di healing, come avete visto, ma ogni personaggio nella sua barra di abilità qui in basso ha l'abilità numero 6, che è sempre un'abilità di healing, o per se stesso, ad aria, credo, non lo so. E quindi non è necessaria la figura dell'healer costante. È più o meno autogestito, però ci si deve cercare di costruire una build in maniera tale da buffare tutto un gruppo. Questo è il pannello dell'eroe, lo si apre premendo H. Prima ancora di cominciare però ad entrare nei dettagli del gioco, forse era bene specificare questo, a differenza, ad esempio, di Valve, che è un gioco con sottoscrizione mensile, ma gratis fino a livello 20. È un gioco che è buy to play, nel senso, se volete giocare il gioco completo allo stato attuale, dovete comprarvi Guild Wars 2 Earth of Thorns, vi sblocca i contenuti del gioco principale, che erano le vatimicione, che in pratica comprendevano tutta questa mappa qua, a destra, quello era il gioco standard, comprando l'espansione, se si aveva già il gioco base, si aggiungeva Earth of Thorns, che, logicamente non riesco a ingrandirlo, occupa questa zona qua di te, ma è piccolina per essere un'espansione, il fatto è che sono mappe diverse, poi ci arriveremo a un gioco che comunque aggiunge molte altre robe in più, e allo stato attuale hanno deciso, avendo rilasciato l'espansione, di rilasciare gratuitamente Guild Wars 2 con alcune limitazioni, si hanno limitazioni sul Black Lion Trading Company, che in pratica è il mercato in-game, nel quale ogni giocatore può vendere e comprare cose da altri giocatori, quindi è abbastanza utile per, diciamo, guadagnare e vendere soldi velocemente. Ha alcune limitazioni nella chat, sblocca su certe cose a un certo livello, e, diciamo, ha dei debuff rispetto, ovviamente, a chi ha comprato il gioco. Comunque si può godere il gioco pienamente. Comprando Earth of Thorns si sbloccano, allora arriviamo passo per passo, perché se no... Questa è la visione dell'eroe, da equipment possiamo vedere tutto l'equipaggiamento, l'equipaggiamento a vari gradi, guardate che brutto che è quest'elmo, a vari gradi, in questo caso un equipaggiamento di tipo esotico, con questo giallo dorato come colore di font. Giallo è raro, verde è masterwork, blu è fine, sopra l'esotico c'è l'asceso, se non sbaglio, Ascended, che è rosa, e sopra ancora c'è il leggendario che viola, ma comunque l'asceso, diciamo, a livello massimo, è leggendario che lo sia, come l'asceso, solo che ti puoi cambiare a piacimento le statistiche. Ditemi se si sente le moto di sottofondo, che chiudo la finestra. E morirò di caldo. E... Vabbè, questa, diciamo, è la visuale principale dove si può vedere l'equipaggiamento del nostro eroe. al guardaroba, perché in teoria ogni volta che troviamo un oggetto avrà uno stile diverso, e noi volendo possiamo sbloccare lo stile, anche se questo vuol dire renderlo account bound, e quindi non poterlo vendere al mercato. E questo, ad esempio, ci permette, dicono, mi fa cagare quest'elmo qua, voglio usare questo, che fa ancora più schifo, allora posso cambiarlo, però per farlo devo usare le transmutation charge, una 35 si ottengono facendo di solito le daily, o comunque si ottengono come ricompensa giornaliera, dato che ci sono ricompense giornaliere, ogni tanto, ogni top si ottengono. Questo lo guarda roba, dice, con le dice si possono colorare le parti della propria armatura, e... no, aspetta, questo lo risentiamo così, non voglio quell'elmo. Sono le tinture, si possono comprare al mercato, si trovano, ci sono di più rare, meno rare, più costose e meno costose, e non ho finito qua, sembrava bello, eh? Outfits, vabbè, queste sono cose un pochino per sciopponi, che non danno alcuna modifica dal punto di vista del gameplay, però permettono di, appunto, avere degli outfit che ti cambiano l'aspetto dell'armatura, ad esempio, se volessi, mostramela, volendo potrei mettere questa, che mi fa un po' schifo, tra l'altro, no, non la voglio comunque, anzi, levala se possibile, no, vabbè, comunque non ce l'ho. Quelle sono le cose da sciopponi, come anche le miniature, volendo questo forse ce l'ho, può averlo chiunque facendo il collegamento, alla verifica in due passaggi, ti danno gratis questo mini mystical dragon, questo mini pet che ti segue. Finisher sono cose più da pvp, quando fai il pvp per abbattere definitivamente il nemico, devi usare la finisher, ovvero primer f sul suo cadavere, e ti farà l'animazione a seconda di quelle che vuoi, per sbloccarle, bloccarle, e anche quelle sono cose più da sciopponi, che fregano meno, i portatori delle mail, io questo qui ce l'ho perché me l'ha andato per l'anniversario del gioco, del rilascio di Earth of Thorns forse, altrimenti è normale, c'è il piccione viaggiatore che arriva e ti dice guarda, è l'email, glider skins perché con Earth of Thorns hanno aggiunto anche i glider, che sono praticamente i deltaplani, diciamo, per usare qualcosa di più, qualche parola un po' particolare, che sono molto importanti per il gioco, poi ci arriviamo. Build, allora, qui possiamo vedere, partiamola qua, mi piace questa visione, a differenza degli altri MMO, le nostre abilità, di solito c'è una barra da 10, 15, 8 abilità, e noi ce le scegliamo, le potenziamo come vogliamo, in Guild Wars 2 non è così, in Guild Wars 2, metà delle nostre abilità, sono date, dalle armi che abbiamo equipaggiate, in questo caso, io ho equipaggiato una Great Sword, che dà questa abilità, uno spadone a due mani, e quindi mi dà queste abilità, inoltre, avrò, e posso avere due set di armi equipaggiati, quindi ho il set con la Great Sword, e durante il combattimento, posso swappare, premendo, ho premuto il tasto sbagliato, lo slash accanto all'uno, che mi permette di cambiare, appunto, al secondo set, in questo caso, ho equipaggiato Asha e Mazza, e quindi, in pratica, abbiamo dieci abilità date dalle armi, che possiamo usare in combattimento, e poi, cinque slot dedicate all'abilità, che scegliamo noi, in base alla nostra build, il sesto è dedicato solo all'ealing, e le altre tre, sono a disposizione a scelta, e l'ultima è l'abilità d'elite, un'abilità che di solito, è più potente delle altre, e che ha, di solito, dei tempi di ricarica più alti, poi andando avanti, come vedete, ci sono le specializzazioni, vuol dire che ci sono sei, in realtà sono cinque, se non si ha Earth of Thorns, 5 settori da scegliere, in base a quelli, si può scegliere, che abilità può avere il proprio personaggio, io ho scelto, Strength, Tactics, e Berserker, che è quella in più aggiunta, da Earth of Thorns, che in pratica, mi aggiunge, mi fa diventare il mio guerriero, una classe diversa, al Berserker, e in base a queste, potete scegliere, ad esempio, non so, Smash Brawler riduce, la ricarica sulla, sulla prima, skill burst, che è quella da, F5, che diciamo, è l'abilità che si carica, quando ho l'adrenalina al massimo, col personaggio, e, praticamente, riduce i tempi di ricarica, che vi sono, per le abilità, speciali, con F5, F2, comunque, a seconda di come lo costruisci, ti crea una build tutta tua, però, tuttavia, quando uno inizia, non è che ha tutto questo davanti, ha, ha poco in realtà, inizio che è tipo solo l'attacco base, e andando avanti, sblocchi l'abilità delle armi, logicamente, e, puoi, oh no, fanno un aggiornamento tra due ore, io voglio uccidere qualcuno, comunque, puoi, ottenere, gli hero points, come vedete adesso, in giro per le mappe, vi sono, da qualche parte ci sarà, no, non ce ne sono più, mi hanno detto, sei uno stronzo, non te li facciamo vedere, stiamo scherzando, ecco qua, si possono trovare queste zone qua, sono dei punti, dove se si fanno delle certe cose, si beve una bibita, si mangia qualcosa, si sconfigge un nemico, si ottiene un hero point, gli hero point servono, io ho già tutto sbloccato, quindi non, non è molto pratico da vedere, per esempio, si parte da qua, al circolo aperto, per sbloccare l'abilità calcio, mi chiederà, eh, tre hero point, quando ne ho tre, tac, li uso, e mi sblocca, e sono divise in physical signet, che sono delle abilità, che rimangono permanenti, a meno che le usi, allora ti attivano, ad esempio, il set è un signet, come vedete, ce l'ho sempre attivo, è un'abilità passiva, diciamo, che a mio mente ha la precisione, però se la uso, mi riempie la barra di adrenalina, sono tutti quelle del caso, e tra gli altri, a parte, queste sono tutte abilità, sulle skills, le specializzazioni, invece, ti sbloccano, quei settori, che abbiamo visto, delle build, in maniera tale, che uno possa scegliersi, l'abilità che vuole, e elite specialization, sono quelle appunto, in questo caso il berserker, quelle aggiunte da Art of Torns, fine, story journal, ogni personaggio ha una propria storia, ed è una cosa molto bella, che hanno fatto in Geek Wars 2, ovvero, cercare di creare, per ogni personaggio, una storia abbastanza unica, ad esempio, io ho fatto, giocato un char, che ha compiuto certe scelte, e la storia è andata in una certa maniera, cioè in realtà, il finale della storia è sempre la stessa, per Dio, però nel senso, ha una certa direzione, se avessi fatto un silvari, probabilmente, è diversa, perché sarebbe ambientata in un altro posto, avrebbe avuto, delle altre origini, altre cose, questi sono tutti i capitoli, della storia principale, che ho completato, è interessante, tra l'altro, quella, qua dice, del gioco base, si può fare anche quasi in singolo, quindi se uno non ha amici con cui giocare, si può divertire così, anche se capisco che sia un po' pesante, poi fanno, su Geek Wars, le living story, a stagioni, praticamente la storia vivente, a stagioni, ad esempio, finita la mia storia, hanno fatto, diciamo, la stagione 1, del living world, Scarlet's War, che, a tal l'altro l'avevo fatto, avevo sbloccato tutto, mi sa di no, che se ci sei online, quando lo fanno, quando fanno aggiornamento per questa storia, puoi farla, parteciparci, ottenere gli achievement, e in pratica, va avanti la storia del mondo, proseguendo da dove è terminata la tua storia, hanno fatto la stagione 2, la stagione 1 non è rigiocabile, la stagione 2 sì, però, come vedete, c'è una valuta in gioco, che ha pagamento, che ti permette di comprare gli episodi, questo non vuol dire, che se io non c'ero quel giorno, non ho potuto giocare, a parte che durano dei mesi, i capitoli della storia, non potevo giocare, vuol dire, che, se io ci fossi stato, ad esempio, ma non avessi avuto tempo per giocare, me la sbloccava comunque, io, nel periodo in cui hanno fatto, probabilmente un anno, in cui hanno fatto tutta questa storia, non c'ero, e quindi, non ho, non ce l'ho sbloccata, ma ad esempio, adesso siamo alla terza stagione, e c'è Out of the Shadows, Rising Flames, che è uscito proprio oggi, Out of the Shadows, Rising Flames, fanno parte di Heart of Thorns, quindi se non hai Heart of Thorns, non ci puoi giocare, tuttavia, io oggi mi sono logato, e, semplicemente perché oggi ero logato, nel giorno in cui Rising Flames c'era, io ce l'avrò sbloccato per sempre, quindi basta che voi ci siate, quando viene messo l'aggiornamento, devi solo sbloccare la pagamento, se non c'eri, e te lo sei perso completamente, Crafting, si possono scegliere due, specializzazioni di crafting diverse, cioè Weapons Meeting, Armour's Meeting, Cooking, Enchantment, mi li sto inventando, ci sono un sacco di cose da fare, ed è fatto abbastanza simile a quello di WoW, servono gli elementi di base, che si possono raccogliere in giro per le mappe, mi dispiace che sia diventando lunga, questa parte è introduttiva, però intanto spieghiamo un po' cosa è il gioco, si possono ottenere gli elementi base, allora vediamo se, aspettate che c'è un'ambulanza, vabbè, sarà ingot, non lingot, vabbè, ad esempio, ecco qua, Refinement, si parte dal bronzo, che si trova nel zone a livello basso, si mischiano insieme gli ingredienti, e faccio i lingotti, poi ad esempio, voglio fare una spada, mi servirà la lama di acciaio, allora devo fare i lingotti d'acciaio, poi mi servirà, basta che andiamo a vedere ad esempio, no, ho sbagliato tutto nella vita, ce la faccio, quanta roba ho, vabbè, va bene, grande spada, come vedete serve la lama, il manico, poi in questo caso questa è un'arma di livello stracazzuto, quindi ha bisogno dei globi di ettoplasma, che sono una cosa di livello grande, e l'iscrizione che in pratica dà i bonus in più, a seconda di come lo si organizza, e il crafting è interessante, tra l'altro craftando si può ottenere esperienza, quindi volendo, c'è magari qualcuno che non ha voglia di livellare, andando in giro, facendo le quest, che poi non esistono realmente le quest qua, ma ci arriviamo, può mettersi un po' a craftare, ottenere un po' di esperienza, sedire di livello, per sbloccare il capitolo successivo della storia, achievement, è un pochino il metodo con cui riesce a capire, se un giocatore ha giocato tanto, se è esperto, se è uno che ha cominciato da poco, e se vado nella mia lista di amici, a parte gente che non conosco, però vediamo Nadir, Argon, siamo noi che non giochiamo ancora da tanto, io ho 1673 punti achievement, Argon 1300, Nadir 600, e se vedo una persona con 13959 punti achievement, dico, mi sa che questo, un po' di tempo qua ce l'ha passato, che in pratica, gli achievement si ottengono facendo cose, completando azioni all'interno della living story, sono di tutti i tipi, ci sono giornaliere, le ho già fatte oggi, purtroppo così non potete vedermi fare quello che devo fare, che ti permettono di, ti danno due monete d'oro al giorno, se le fai tutte, e qualche oggettino interessante, ci sono gli achievement della propria storia, ovvero se gioco al capitolo della storia, posso ottenere delle cose, se ti compri il gioco sei più forte, no, non sei più forte, a parte, cioè adesso, un po' sì, perché, hanno aggiunto una cosa in più, con, Earth of Thorns, c'è dei personaggi in più, però in teoria questo era un gioco che era solo buy to play, cioè in teoria non potevi giocareci gratis, hanno aperto gratis, però, per forza, per non dire, voi che l'avete comprato, voi siete presi in quel posto, hanno dovuto creare un dislivello, e, e quindi, sei limitato, ma non sei, cioè a livello di gioco effettivo, in PvE, non hai delle limitazioni, cioè non dici, minchia, io sono uno sfigato, quello lì è stracazzuto, no, perché in teoria avete le stesse possibilità, poi si basa molto più che su armi, armature, cose simili, sulle proprie abilità, spesso, sto gioco, e, l'unica cosa, logicamente, se è un account gratuito, sarà più difficile per te ottenere l'equipaggiamento che ti interessa, come ti interessa, perché non potrai usare il mercato interno, che ti aiuta un sacco, perché con pochi soldi puoi comprare da un giocatore quello che ti serve, e te puoi fare i soldi facilmente, e alla fine le masteries, che sono una cosa di Earth of Thorns, in pratica, Earth of Thorns è tutto ambientato da livello 80 in su, che è il livello 80, ecco la massima, tra l'altro posso fare questo, e lo facciamo, non me ne ho minimamente accorto, volevo però, scusate un attimo, su vi spiego tutto, questo, sono divise in tria centrale, Earth of Thorns, a seconda che noi si sia nella zona di Earth of Thorns, o in quella normale, queste le avete solo se avete comprato il DLC dell'espansione, e, in pratica, per ogni livello in più che prendo oltre l'80, come vedete c'è una barra d'esperienza che è andare a riempirsi, mi serve un milione e duecentosettantamila d'esperienza, che è tanto, andrà a riempirsi, e sto allenando, ad esempio adesso, Reverend Antiquarian, in pratica mi permette di cominciare a prendere le basi, per fare le armi leggendarie, a craftarle, e, questo qui, nella parte di Tyria, sono più cose che ti aiutano a volte in game, ad esempio, adesso guadagno 10% di esperienza, per tutto il crafting, e ho anche 10% di critical chance in più, di fare del crafting, diciamo, critico, se vado avanti, o mi sblocca dei mercanti in più, quindi ci sono dei bonus nella zona, invece in Heart of Maguma, in Heart of Thorns, spesso sono fondamentali solo che per muoversi per le mappe, perché ti permette di usare delle cose in più, che altrimenti non potresti fare, no, 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 calmati, 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 torniamo qua, che altrimenti non potresti fare, vilipipi, Quindi ho mostrato tutto quello che c'era da mostrare su Liro Inventario, sì, direi di sì Non sto andando proprio alla grande Spero si stia vedendo bene Sì, la qualità fa un po' schifo in realtà Però, perché in realtà è un gioco online Sto streamando E, boh, spero vada abbastanza bene Fatemi solo Come vedete Vi faccio vedere il mercato interno Trading post, sì, posso cercare tutte le cose messe in mente da altri giocatori Voglio dei pantaloni particolari Li trovo, poi logicamente se voglio qualcosa di preciso me lo cerco Riesco a trovare proprio quello che mi interessa E posso comprarlo, ad esempio, questi costano 13 d'oro Che cazzo sia, io non lo so Che sembra costino un po' tanto E posso comprare la 13 d'oro da un giocatore E gli arriveranno questa cifra qua, più o meno Poi in realtà il mercato si trattiene un po' Sennò la gente spammerebbe troppa roba Non ci sarebbe vantaggio Wow, onore venti di robe vendute qua E Voglio farvi vedere allora a questo punto cosa succede in Earth of Thorns Che non mi ricordo dov'è È questo, guarda un prank Sì Quando io giocavo nel gioco base, diciamo Sto leggendo un po' di critiche Dicono Un mercato interno fra i giocatori mi pare uno schifo Perché? A me Secondo me è la cosa che mi cazzo di più Ad esempio ci sono giochi tipo Eve Online Che è solo un mercato interno tra i giocatori Cioè non c'è nient'altro La meccanica centrale è quella E te devi cercare di potenziarti in quel modo Cioè piazzarti sul mercato Lavorare sul mercato Cioè è la cosa più evoluta Se non ci fosse un mercato tra i giocatori In realtà è tutto gestito dal gioco E quindi è il gioco che ti dice Ah vuoi questo oggetto potente? Allora te lo mettiamo a un prezzo altissimo Così devi grindare troppo Devi giocare troppo Facendo così invece Sono i giocatori stessi che decidono Che valore assegnare A una valuta A un oggetto, perdon Scusatemi L'avevo un po' in chat perché mi ero distratto Mi sono preso nel discorso e mi sono perso tante cose Vi chiedo perdono Questa cosa c'è solo per il DLC Cosa? Non sono perso una dire In che modo poco verile Si muove il tuo personaggio Un char Un gattone Ah la mancanza di un mercato interno Per chi non paga È limitato Sì Limitato a certi oggetti E Beh nel senso Lì è sensato Cioè è sensato Il free to play è inteso qui Come evolve per giocare fino a livello 20 È inteso per Non Oh mi sono perso il discorso È inteso Non come Ah puoi giocare A vergi Sì puoi anche giocare fino a livello 80 Fai quello che vuoi Certo Ti rendi conto perché hai delle limitazioni E quindi È inteso più che altro per dire Va bene hai giocato gratis Però renditi conto che questo in realtà è un gioco Che se lo compri Cioè non è un altro gioco Però ti si apre È un po' come se fosse il trial In realtà è un trial che ti permette di giocare anche quasi a fondo al 100% il gioco E E quindi nel senso ti fanno assaporare un gioco che altrimenti ti saresti perso È un modo per avvicinare la gente al gioco e cercare di farla pensare Posso comprendere per chi gioca free to play Che li girino i coglioni Però stai giocando free to play Mentre qualcuno ha comprato il gioco Cioè neanche Ci sono giochi che devi pagare non so 12 euro al mese Qua devi pagare Nel solito Of Thorns lo troviate su internet ai 30 40 euro E hai un gioco online che ci puoi giocare tutta la vita Ehm Ok Sono venuto qua perché con l'aggiunta di Earth of Thorns come avevo detto hanno messo i glider Che originariamente io non capivo molto bene la sua utilità Nel senso Sì salti, plani e quindi Poi sono entrato nelle mappe di Earth of Thorns E ho detto cazzarola Allora come vedete Dite boh sembra una mappa normale Ma se ci fate caso ci sono ben tre piani di questa mappa Superiore, centrale e inferiore Il glider è estremamente fondamentale per muoversi nelle mappe di Earth of Thorns Adesso ad esempio Se io volessi andare là Magari non c'è una strada diretta che mi permette di arrivare Però col glider Posso gestirmela In realtà Cioè non ci sono neanche tanto percorsi fissi In Earth of Thorns Devi andare un po' A cazzo di cane alla spera in Dio diciamo E cercare di Di trovarti te Il percorso di capire come arrivare in una certa zona Io Mentre in Diciamo nel gioco base Ho esplorato Al 100% la mappa Qua è un macello Perché Come faccio a sapere come arrivare in una zona Per di più Con le masteries appunto Sblocco delle cose in più La prima masteries mi permette appunto di sbloccare glider Se no sto fresco Non arrivo da nessuna parte Con Una seconda masteries Sblocco i bouncing mushrooms Che speravo di trovare qua in giro E No quello Speed boost Ad esempio ci sono i speed boost mushroom Perché? Perché come ho già detto Qui è una zona tutta A livello 80 Ma non è il livello 80 Che c'è nel gioco base Ma è Questi livello 80 picchiano Cioè se uno prova ad evitare le zone correndo Spesso finisce ammazzato in poco tempo Quindi ha messo dei funghi per la velocità Che ti permette probabilmente di evitare più velocemente le zone Il fatto è che se io mi ci avvicino Non posso farci niente Perché non ho ancora la mastery Quindi più gioco qua Più punti esperienze ottengo per Heart of Thorns Più cose posso fare Adesso mi sto distraendo tra leggere voi e giocare Sì senza DLC comunque la parte gratis è enorme Cioè hai tutta la mappa Puoi fare un po' di cose Logico Ti è più difficile essere competitivo diciamo Vedete là c'è un large ice ship cargo Che è un oggetto che si può aprire solo se si hanno delle Come si dice Dei piedi di porco che si ottengono Ah però te sei veterano Vediamo se riusciamo a uccidere questo veterano se ci ha Aspè Una alla volta Qua Heart of Thorns bisogna prendere le cose una volta Perché ti fanno un po' Ok ho usato l'abilità sbagliata Siamo volati per terra Niente Capito perché i glider sono fondamentali Visto qua c'è un updraft Che mi permette probabilmente di ottenere di nuovo Diciamo abilità di planare per il mio glider Il fatto è che non ho l'abilità E quindi devo planarmela E qua io spero ci sia Qualcosa qua sotto Se no Moriamo quando arriviamo per terra Se non c'è niente O magari riusciamo ad appoggiarci da qualche parte Potete trasportarci O forse c'è proprio un percorso Sì c'è un percorso perché ci sono dei nemici Però Ok ho aperto appena in tempo E non so Cioè avete visto quanta strada ho fatto in verticale Adesso mi ammazzano sicuro perché siete la metà di mille Però non so quanta strada ho fatto in verticale Ma Eccolo di fungo che cercavo Ma E' tantissima E quindi la mappa è estremamente stesa Anche in verticalità Questi sono i funghi che cercavo Che ho allenato alla master Per usarli Probabilmente questa è una zona tipo a conca Fatta per accogliere pirla come me Che finiscono per terra E hanno messo i funghi in maniera tale Che se vuoi Riesci a tornare su Ehm 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 Cambia soggetti in gilda E' una cosa abbastanza fondamentale Sì Ehm Chi non ha il Ehm Chi non ha comprato il gioco Non può accedere alla volte di gilda Quella è un'altra delle limitazioni che ci sono Bene A questo punto vi faccio vedere il sistema Questa è solo per farvi vedere la differenza che c'è Ehm Tra Hearth of Thorns Per chi ce la conosce Ma vi faccio vedere Le mappe base Andiamo in La prima mappa dei char Ehm Andiamo qua Che è proprio il primo Waypoint che si incontra Appena si esce Come ho Diciamo Detto A mezza voce prima Non ci sono effettivamente le quest In Guild Wars 2 Perché non va affrontato come un gioco Del tipo Io mi prendo la quest Vado qua Faccio questa cosa Ammazzo questi nemici Torno Prendo la recompensa Vado qua Faccio questo Va inteso tutto come un gioco Molto esplorativo In realtà Cioè ogni mappa Può essere esplorata Anzi Quando è esplorata al 100% Da un bonus Ed ha come vedete Ad esempio Questa Plains of Ashford Scusate La zona in cui ci troviamo adesso Ha 18 Waypoint Che sono i punti in cui ci si potrebbe trasportare Ha 6 Hero Challenges Che sono quelle che ho detto precedentemente In cui si possono ottenere Hero Point Per sbloccare le abilità Ha 17 Point of Interest Sono semplicemente Delle zone Diciamo Come se fossero I punti di interesse Della mappa Ma inteso ad esempio Qua c'è un villaggio Ci sono dei venditori E hanno fatto un Point of Interest Qua pure un Point of Interest Le ha messi Sparsi per la mappa E uno deve andare a cercare Semplicemente passandoci sopra Le attiva Le vistas Che sono dei punti panoramici Dove se ci si sofferma Appare una breve cutscene Che fa un giro panoramico Anche molto bello Della zona E E sbloccare tutte queste Qualsiasi di queste cose Da dei punti esperienza Poi ho lasciato per ultimo Questi cuori Che sono dei task Volendo Si possono anche tradurre come quest Ma vuol dire che Adesso sono tutti pieni e dorati In realtà erano vuoti All'inizio Quando andavo in questa zona Adesso no Però quando andavo in questa zona All'inizio con il mio personaggio Quando non avrò ancora fatto il task Mi diceva Aiuta Il Ranger Tolona A A eliminare i ragni Dal Ranch Però non è mai Intesa la questa La vecchia storia Alla vecchia maniera Del tipo Uccidi otto nemici Si Puoi farle Puoi farti anche tutte le quest Che uccidi tutti gli otto nemici Ma ci sono sempre delle alternative Magari c'era anche Dai da bere alle mucche Invece Che vuol dire Cioè Se uno gioca in irrempe mente Dice vado lì Amazza 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 Ma di solito ci stai anche di più Cioè vogliono Invitarti probabilmente A farti Fare attività diverse E Non so Dai bere alle mucche Me lo sto inventando Probabilmente non ce l'ho Dai bere alle mucche Oppure Tappa i buchi Da cui possono uscire i vermi Che sono azioni che magari Chiedono un secondo E non sempre gli chiedono di combattere E ti permettono di avanzare Massimo Hai completato il task Ti dà dell'esperienza Ti dà qualche ricompensa In esperienza Karma E Il quest giver Diventa Un karma vendor Un venditore Che accetta come valuta Il karma Perché Ci sono tantissime valute In Guild Wars Una di queste È il karma Non vi ho fatto vedere Prima se vado in inventario C'è il wallet Il portafoglio I coins sono la valuta generica Che vale con tutti i mercanti Con tutto quello che volete Il karma Sono Si guadagnano Facendo le quest Ma non solo Perché ad esempio Io adesso ho completato Tutte le quest Ciò non vuol dire Che io non possa più Guadagnare karma Spirit shard Si usano poi Nella Mystic Forge Ci arriviamo Non so neanche Se ne parleremo stasera I laurel Si ottengono Facendo login Sono utili Per comprare robe Hanno anche un gran valore Tra l'altro Di solito Tutto ciò che ci compri Può essere Rivenduto Per almeno Un'equivalenza Di un oro A un All'oro Diciamo Beh Ci sono un sacco Di monete Un sacco di valute E molte sono Soprattutto Non molte Ma ad esempio Ascolonian Tears Seals of Beetletum Knowledge Crystal Anche si Sono tutte Valute dei dungeon Perché Il gioco presenta Tot dungeon Che trovate sulla mappa Indicate da queste porte I dungeon Sono delle zone affrontabili Solo da Da gruppi di giocatori C'è gente che Ci gioca Che riesce a finire Dungeon anche da soli Ma sono dei coreani Veri quelli E Un team di giocatori Di 5 persone Mi sembra Non voglio dire una cavolata Affronti i nemici A un livello fissato E anche te Se hai un livello fissato Io adesso sono all'80 Ma questa è una zona Da livello 3 Ora non riesco a vederlo Perché c'è questo Però Anch'io Dovrei essere Posso selezionarmi? No Anch'io comunque dovrei essere In questo momento A un livello 3 Come vedete Sia bello Uccisa con un colpo Perché sono forte Ho tutte le abilità Però In teoria Sono scalato Allo stesso livello In maniera tale Che se vuoi andare ad aiutare un amico O se vuoi fare delle cose Sia allo stesso livello E prendi comunque esperienza Cioè quindi non è che Se sei al 79 Fai in una zona da 2 Non riesci a ottenere esperienza E ti devi fare anche il culo No Riesci a ottenere esperienza E E prosegui tranquillamente Puoi dare una mano ai tuoi amici E puoi fare tutto Mantenendo un grado di sfida decente Così puoi continuare a esplorare il mondo Comunque avendo Un certo grado di sfida E non Ah beh sono arrivato in fondo Mi esploro il mondo in due secondi Se anche mi attacca uno Li tiro una cappellata L'ho ucciso Seconda cosa Ahia è già finito Come forse avete notato C'è un circolino arancione qua Con un simbolo In pratica Eh Hanno voluto impostare Ogni istanza Ogni mappa Eh Come Eh Un mondo vivente E per questo Eh Ci sono Continuamente Degli eventi Nel senso io girerò Ogni tanto Cioè uno può girare Per una mappa Ogni tanto compare Oh Occhio Guarda che è comparso questo nemico potente È un evento di gruppo Dovete cercare di sconfiggerlo Allora Troverà Si trova così sempre Una decina di giocatori Che sono lì a picchiare Questo nemico E andare a fare Oppure Ehm Ferma i ladri Che stanno rubando tutte le scorte Cerca di salvarne il più possibile Oppure scorta questo Ehm Mercante Fino al prossimo avamposto Così A giro ce ne sono Compaiono a caso lungo la mappa Ehm È una maniera per tenere il mondo in vita E infatti L'obiettivo del gioco Non è tanto far quest Ma vivere il mondo Cercare di esplorarlo Cercare di Partecipare alle eventi Poi logicamente In senso Il gioco È un programma A computer E quindi Ha una certa Ehm Abitudine È standard Ha una routine E quindi Ci sono degli eventi Che in giro per il mondo Nelle mappe Spawnano dei boss Enormi Dove Lo affrontano Centinaia di giocatori E Spawnano sempre Ogni tre ore Quindi hanno fatto dei timer Dove sai Diciò Vado a farmi un po' D'esperienza Un po' di oggetti potenti Vado a farmi questo mostro qua E sei sicuro che Troverai una marea di giocatori Ehm È inteso però anche Nella maniera di Essere affrontato più volte Perché l'ultima volta Giusto con Nightmare Qualcun altro Abbiamo fatto Dove in general Abbiamo fatto The Shutterer Che è un boss E come vedete Ci sono numerosi Achievement Legati A The Shutterer Quindi Probabilmente Ehm Come vedete Baccia del Drago Uccidi il Drago Disconfiggilo L'ho fatto una volta su cinque Ehm Però se lo batto cinque volte Mi dà l'achievement completo Quindi è fatto in maniera tale Di dire Ok lo sappiamo Che si ripete Perché è un gioco Perché non è che Comparirà solo una volta Nella vita Questo gioco Questo nemico Ma Ti invitiamo anche A rifarlo A A completare Al massimo Diciamo Questo può essere Un senso di grinding Però non è un grinding Volto ottenere qualcosa Di più potente Perché alla fine Gli oggetti che ottieni Non sono magari Neanche particolarmente Interessanti A un certo livello All'inizio Possono essere molto interessanti E E E E Cosa volevo dire Ma per appunto Completismo personale Per mettere il proprio Achievement point Io credo di aver detto Un sacco Di cose Sul gioco E questa era una presentazione Un po' generale Io spero Se siete interessati Potete scaricarlo gratuitamente E lo trovate in generale Lo trovate Digitando Guild Wars 2 Potete fare un account Gratuito E provarlo Se poi vi piace Potete dopo un po' Comprarvi l'espansione Ve l'ho detto Lo trovate a 30 euro Dai 30 ai 40 euro Credo Forse un pelo di più Però vi apre tutto Quello che vi ho fatto vedere Comprare il gioco a tubare E' un gioco In continuo movimento La Living Story Il capitolo della Living Story Uscito oggi Quello nuovo Quindi Ehm A dimostrazione Che nel senso Ci lavorano dietro Ci stanno attenti Ehm A questo poi Vabbè Nota aggiuntiva Abbiamo anche Formato una gilda Dell'Indie Bang Vabbè Hanno disabilitato Perché tra poco Tra un'ora E mezza Immagino Sì Tra poco Tra un'ora e mezza Un'ora e un quarto Forse Risetteranno Il server Perché hanno Una nuova build Da caricare Spero Non duri tanto Resettano Nel caso in cui Ci becchiamo in età E quindi Hanno disabilitato L'azione Per me ha fatto L'agilità dell'Indie Bang E siamo un po' di gente Motivo per cui Volevo proporvi Ehm Di far 1 2 3 4 5 Siamo proprio in 5 E vogliamo provare A fare un Diciamo che il video Finisce qua Spero vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Vi piace Quando vi vedete Con amici Possiamo pensare di genere Noi ci vediamo Al prossimo video E possiamo invece puntare Ad andare a fare Un dungeon Tutti assieme Ehm